Ci siamo, c'è una svolta nel caso di Angela Celentano. Il DNA della ragazza sudamericana è stato prelevato, mentre questa si era recata in Europa per un incontro lavorativo, finto, fatto proprio con lo scopo del prelievo. A riguardo in una conferenza illegale di Celentano Ferrandino ha dichiarato, nei giorni scorsi, finalmente, un collaboratore del mio studio in un paese nord-europeo ha incontrato la ragazza sudamericana, che sospettiamo possa essere Angela Celentano. La bambina scomparsa nel 1996 sul monte Faito e ha provveduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di Napoli. Non appena ne sarò in possesso, provvederò ad inviarlo in uno dei laboratori di mia fiducia specializzato nell'individuazione del DNA. Conto, entro una decina di giorni, di poter procedere al confronto del profilo genetico della ragazza con quello dei Celentano. Ragazzi, quindi, forse finalmente ci siamo. Tra non molto, potremmo scoprire se la ragazza del Sud America è oppure non è Angela Celentano. Qualsiasi novità a riguardo, io vi terrò aggiornati con una video news. Per non perdervi nessun nuovo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ci vediamo con un nuovo video.